Nessuna emergenza meningite in provincia di Foggia. Lo rassicura la direzione strategica dell'ASL in merito ai tre episodi di meningite batterica verificati nelle ultime settimane in Capitanata. Per quanto concerne i primi casi registrati a Manfredonia, si è trattato di due donne arrivate all'ospedale San Camillo dell'Elis in due settimane diverse. La prima paziente sarà trasferita agli ospedali riuniti nel reparto di malattie infettive, la seconda sarà trasportata in un primo momento a San Giovanni Rotondo, presso il reparto di neurologia di casa sollievo della sofferenza e poi spostata a Foggia, anch'esse in malattie infettive. L'ospedale Sipontino è stato bonificato e le persone venute a contatto diretto con le pazienti, ossia familiari e personale ospedaliero, sono state sottoposte immediatamente a profilassi antibatterica. Nessun rischio di contagio e diffusione del batterio, sottolinea ancora la ASL, anche perché tra le due donne, provenienti come si è accertato da comunità distinte, non c'era stato in precedenza alcun contatto. Anche per il terzo caso, che ha riguardato una guardia giurata in servizio nel carcere di Foggia, deceduta a causa di sospetta meningite e batterica in ospedale di Trani, città dove la vittima risiedeva, è stata subito avviata la profilassi preventiva nei confronti di coloro che nel carcere di Foggia sono venuti a contatto con la vittima. I tre casi, precisa ancora la ASL, sono distinti e non vanno assolutamente messi in relazione. Intanto la situazione è sotto controllo e monitorata costantemente proprio degli operatori della ASL di Foggia.